Benvenuti a questa prima edizione, speriamo l'inizio di una lunga serie di lungo percorso di Mare Nord-Est, edizione dedicata ovviamente al mondo della subacquea a 360 gradi ma non soltanto, capiremo di cosa si tratta adesso presentandola. Questa edizione è organizzata dall'Associazione Trieste Sommersa a Diving, qui con me c'è infatti il Presidente Roberto Bolelli che ha voluto fortemente questa iniziativa che si è riuscita a realizzare anche grazie all'aiuto non soltanto tuo ma dei tuoi collaboratori e di tante realtà qua della provincia di Trieste. Sì, intanto il mio più grande ringraziamento va alle due persone che insieme a me hanno volutamente e caparbiamente portato avanti l'iniziativa. C'è Edoardo Natelli e Alessandro D'Amico e tra l'altro un particolare saluto va a Sandro che adesso si sta occupando della gara che è iniziata da pochi minuti fa. Mare Nord-Est… Sì, spieghiamo quindi perché c'è anche il primo trofeo praticamente Moreno Genso che è un grande personaggio della subacquea Triestino scomparso nel 2006, diciamo che molti di noi anche io sono un appassionato di subacquea si sono avvicinati, hanno potuto coltivare questa situazione grazie a Moreno e c'è proprio qui a Grignano il primo concorso fotografico. Esatto, Mare Nord-Est è una manifestazione che ha una triplice anima se vogliamo, un'anima sportiva perché appunto c'è questo trofeo Moreno Genso che è iniziato da pochi minuti, una gara di fotosub che viene fatta nella zona di Grignano, nella zona antistante la scogliera di Grignano e che oggi pomeriggio ci sarà la premiazione. La seconda anima è un'anima di divulgazione scientifica, qua con noi ci sono diversi esponenti del mondo scientifico che durante la giornata ci daranno qualche ulteriore raguaglio e stimoleranno poi tra l'altro una serie di discussioni e poi c'è anche un'anima, un occhio particolare su quello che la subacquea può fare da un punto di vista socio-economico per la nostra città e in generale proprio per dare uno stimolo, uno spunto a tutta una serie di sviluppi che ci possono essere da un punto di vista economico, turistico e di sviluppo dell'attenzione nei confronti dell'ambiente. Quindi scienza possiamo dire, turismo, economia e sport, sono questi i tre assi portanti in cui si svilupperà questa giornata che avrà appunto molti relatori, iniziamo adesso, termineremo nella tarda serata anche con la premiazione del primo trofeo fotografico, noi allora quindi possiamo già iniziare un po' i lavori, vogliamo anche dire che tra i vari relatori d'eccezione c'è anche un ospite d'eccezione. Sì, sicuramente è una delle persone che ha stimolato tanto in noi, in Trieste, sommersa diving, ma direi proprio nella città di Trieste perché penso che sia un rapporto che va al di là di quello che potrebbe essere la parte scientifica, penso che oramai sia questo un nostro ospite d'eccezione che è Mike Routzen che viene dal Sudafrica, è conosciuto nell'ambito delle riprese, è un giornalista del National Geographic, ha fatto e sta facendo tuttora una serie di documentari, ma la cosa più importante è che insieme a lui c'è la dottoressa Sara Andreotti che è una di quelle persone che ha sviluppato le proprie conoscenze all'Università di Trieste e che sta portando in giro per il mondo l'eccellenza del mondo triestino, del mondo del studio triestino. E poi ci sono tante altre persone, mi preme ricordare Luciano Ditri con un gradevolissimo ritorno perché è stato uno delle persone che io personalmente ho incontrato di più e diciamo fin dall'inizio come uno dei nostri guru della parte medico-scientifica. Abbiamo i responsabili della riserva di Miramare, abbiamo il dottor Sperone che fa parte di un gruppo di ricerche estremamente importante, anzi colgo l'occasione per salutare il professor Micarelli che non è potuto essere presente qui con noi e che è stato colui che ci ha portato poi in Sudafrica e ci ha fatto conoscere Mike eccetera. Quindi i contenuti sono molti, meglio far parlare i diretti responsabili. Sì, il mare nord-est si è potuto realizzare grazie all'importante contributo di Turismo FWG, l'assessorato al turismo, il patrocino del comune di Trieste, ma prima di iniziare la nostra giornata di lavori parliamo anche un attimo della Trieste sommersa a Daim. Voi avete un progetto che volete realizzare che si tratta del parco navale nel Golfo di Trieste, in breve poi magari torneremo più avanti, di cosa si tratta? Il parco navale sommerso di Trieste è un progetto sul quale stiamo lavorando da 10 anni, sono dal 2002 che abbiamo iniziato una serie di studi, di fattibilità eccetera. Molto semplicemente si tratta di mettere a dimora, in una zona dedicata a parco, delle unità navali della marina ormai dismesse, previamente bonificate, utilizzando dei protocolli di lavoro in questo caso già utilizzati per esempio a Plymouth in Inghilterra dove noi siamo stati a vedere come viene fatta questa cosa. Secondo noi è estremamente importante questo progetto perché potrebbe dare un grande sviluppo turistico alla nostra città, ma anche un sviluppo da un punto di vista scientifico perché potrebbe essere un'ottima zona laboratorio, potrebbe essere estremamente importante per gli appassionati di pesca sportiva perché ovviamente questo stimola la crescita della flora e della fauna indigena, quindi bene o male è un sistema che copre diverse anima e che potrebbe essere veramente estremamente importante per tutta una serie di sviluppi. Tengo a precisare che laddove questi progetti sono stati fatti la comunità ne ha tratto enorme beneficio ed è proprio sull'onda di questo discorso che abbiamo voluto portare anche qui con noi Mike come testimone del fatto che ci sono delle zone nel mondo dove l'attività subacquea diventa principale fonte di reddito per certe zone. Io penso che Trieste in questo senso abbia tanto da dare, contiamo molto sull'appoggio delle istituzioni per portare a buon fine la cosa anche perché noi non molliamo, siamo testardi, noi vogliamo arrivare al punto in cui questa cosa si viene a fare.